Allora, io impazzisco per le merendine, quindi dobbiamo assolutamente farlo. Facciamo la classifica, flauti, terzo, c'è di peggio e c'è di meglio, non mi odiate, vediamo un po', le nastrine, quinto, chi se ne mangia le nastrine? Prossimo, la, basta, nastrine, non ci piacciono? Poi, io so già chi deve essere al primo posto, i pandistelle, pandistelle secondo, cioè c'è solo una migliore dei pandistelle. Tegolino, quarto, non mi piace, cioè non mi fa impazzire, mangiabile, ma niente di che. Pagnistelle di nuovo. Io intanto in tutto ciò mi perdo, non mi ricordo più che ordine gli ho dato. Crostatina? Che cosa mi rimane?